Io mi chiamo Parico Scalzoni, ho 35 anni e di mestiere faccio il culo alla gente. Riccardo Scamarcio. Don Deone, la domenica a Missa, c'è sempre cose fedenti contro di me. E ti lascia a te, se ho figli di Teresa. Che combinato, Parico, che combinato. Scupare, levati di mezzo. Non ci sono mai stato dentro la casa di una donna. Certe volte però non mi sono immaginato che anch'io potevo tenere famiglie.